Mabba, ritorna a quel buon lavoro Mabba, tutta la propietà, eh! Bimbi, com'è la pasta? Buona! Buona? Buona? Com'è la pasta? È ottima! Bene! Abbiamo qui Marco che avendo visto la pubblicità su Facebook è venuto e è anche gradito immagino Ho anche gradito, sì molto devo dire, la pasta era buonissima, matriciana splendida ed è stato casuale, passeggiando per Ostia ho visto l'evento, sono passato e ho trovato una comunità meravigliosa che mi ha accolto immediatamente con un piatto di pasta Hai visto, sì, sei arrivato caldo 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 caldo, appena c'è stata la prima sfornata ho mangiato un mio bel piatto di pasto Sì, grazie per aver dato il tuo contributo Grazie a voi che l'avete organizzato